Al coro di Noa, all'ampliamento eccessivo dei Trabocchi, si unisce anche Confesercenti che chiede alla regione di non snaturare la piccola ristorazione sul mare. Anche l'associazione di categoria, insieme al consigliere regionale Silvio Paolucci e al Movimento 5 Stelle, esprime perplessità sulla proposta di legge regionale Salvatrabocchi che dà il via libera a ristoranti da 210 metri quadrati sulle storiche macchine da pesca che sono diventate ormai attrattive turistiche della costa abruzzese. E mentre il consigliere Paolucci sulla pagina Facebook scrive che è stata accolta la proposta di audire i portatori di interesse su questo tema importante per il turismo abruzzese e che la proposta di legge sui Trabocchi è stata rinviata alla prossima seduta per favorire un'ampia partecipazione al dibattito per migliorare la proposta in discussione, il direttore di Confesarcenti Abruzzo Lido Legnini ribadisce che i Trabocchi sono un patrimonio per il turismo abruzzese e vanno valorizzati nel rispetto del mare. Pensare di trasformarli in mega ristoranti sul mare è profondamente sbagliato e molto provinciale. Bisogna recuperare lo spirito iniziale della legge per la valorizzazione dei Trabocchi. Qui si dà la possibilità di arrivare fino a 210 metri quadri con 60 posti a sedere dal nostro punto di vista, insomma questi non possono essere dei ristoranti sul mare. Sono i Trabocchi, bisogna recuperare quello che è il Trabocco originario e quindi dare la possibilità di una piccola ristorazione accessoria all'attività turistica. In Europa sono circa 600 mila le vacanze all'insegna dell'enogastronomia e oltre 20 milioni i viaggi che includono tali attività che attraggono anche gli italiani. So che c'è bisogno comunque di una legge per regolamentare alcuni aspetti che oggi non sono regolamentati appunto. Però la nostra perplessità nasce dal metraggio e dalla possibilità di fare ristorazione to-cour. Dal nostro punto di vista deve essere limitato, esistono tanti ristoranti sulla costa, questi sono dei luoghi fantastici, dei luoghi turistici, degli attrattori. Bisogna consentire anche una piccola ristorazione ma non autorizzarli a veri e propri ristoranti.